Buongiorno a tutti gli amici della rete, sono qui per invitarvi al nuovo evento che si svolgerà sabato 24 alle ore 16, che è il Grand Prix di ginnastica, Rana Gioia Verde Cup. Un evento che riunirà tutti gli atleti delle Olimpiadi, quindi sarà una grande festa nel quale ci esiberemo noi della nazionale italiana e alcuni stranieri. Quindi vi invito numerosi. Ma dove vi inviti? Tutti a Cagliari, a casa di Nicola. Ecco lì dovevi arrivare. E allora? Ci vediamo, mi raccomando, non mancate. Ciao. Ciao.